Non c'è ancora un nome per il killer che il 9 settembre 2019 uccise a colpi di pistola sotto la sua abitazione il 19enne Gian Piero Carbone, ma nel frattempo è arrivata la sentenza di condanna per i personaggi che poche ore prima del delitto fecero irruzione minacciosamente nell'abitazione del giovane che poi sarebbe stato ucciso e che esplosero successivamente alcune fucilate in una piazzetta del rione Perrino. Sei condanne con una pena massima di 7 anni e 10 mesi di reclusione sono state emesse dal Tribunale di Brindisi nei confronti dei giovani coinvolti nei due episodi e che in qualche maniera sono sospettati anche di essere collegati con l'omicidio nell'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Brindisi. La pena più pesante, poco meno di 8 anni, a Stefano Coluccello, 6 anni e 10 mesi di carcere per Giuseppe Lanoce, 3 anni e mezzo per Aldo Bruno Carone, 2 anni e 10 mesi per Eupremio Carone, 3 anni e un mese per Giuseppe Sergio e 2 anni per Alessandro Coluccello. Giuseppe Lanoce, Stefano Coluccello e i fratelli Aldo e 2 Premio Carone erano accusati di aver tentato di estorcere una somma di denaro a Piero Carbone, padre di Giampiero, chiedendo un risarcimento per i danni provocati a un'auto che il ragazzo aveva rubato e abbandonato per strada dopo un incidente. Stefano Coluccello, Giuseppe Lanoce e Giuseppe Sergio avrebbero esploso poi una fucilata nella piazzetta del quartiere per intimidire due amici di Carbone. Nonostante la sentenza per il processo satellite dell'inchiesta principale, l'indagine sull'omicidio, non si è ancora conclusa. Nelle scorse settimane uno degli imputati ha ricevuto un'informazione di garanzia per omicidio volontario, ma senza che venissero poi adottati nei suoi confronti i provvedimenti più severi. Parallelamente gli investigatori stanno valutando la posizione di un giovane amico della vittima non imputato nel processo che avrebbe confidato alla sua fidanzata dell'epoca di aver ucciso lui Carbone. È stata proprio la donna a raccontare tutto in aula.